Salve a tutti e ben ritrovati per questo nuovo video, ci troviamo su chess.com, oggi andiamo a provare un po' di trucchetti in apertura cose che vi ho già mostrato in vari video e oggi le mettiamo in pratica allora, vediamo ovviamente cosa giocheranno, cercheremo di fare il possibile vediamo, prima partita, avversario 1137, quindi tra l'altro stiamo parlando anche di livello basso ha giocato la Karo Khan, giochiamo C4, ecco questo è un sistema che posso suggerire contro la Karo Khan è molto interessante, soprattutto fino a categorie di prima nazionale, è molto efficace perché è un attacco c'è una partita famosa tra Tal e Karpov dove è stato giocato questo sistema e il bianco riesce ad attaccare molto facilmente ora qui in questo caso l'avversario ha sviluppato velocemente l'alfiere in F5 io gioco una mossa come l'alfiere 3, sviluppo un pezzo esatto, volevo proprio provocare 6 perché secondo me ora in questa posizione lui è già in difficoltà siamo a 8 mosse, io gioco donna A4, inchiodo il cavallo, sto per fare cavallo E5 oppure addirittura anche alfiere B5 e non la vedo tanto buona per lui questa posizione gioco alfiere B5, vediamo lui ora cosa fa, deve difendere di donna mossa sbagliatissima tra l'altro perché proprio in B6 possiamo attaccarlo con l'alfiere quindi gioco D5, pedone per, arriva il piere per, siamo a 12 mosse e abbiamo già partita vinta ci troviamo su chess.com, tantissimi stanno a questo livello su chess.com cioè milioni di persone non superano il 1130 in realtà non è poi così complicato soprattutto ovviamente se vi va di divertirvi potete anche utilizzare dei trucchetti comunque questo sistema ve lo consiglio, è ottimo rimarrete col pedone isolato ma avrete ottime possibilità seconda partita, vediamo un po' cosa succede qui bene, questa volta voglio provare il gambetto italiano se possibile ma ovviamente giocano cavallo F6 ultimamente tutti giocano cavallo F6 vabbè non ci sono problemi giochiamo comunque D4 per rientrare nell'attacco Max Lang lui cattura io arrocco qui lui ha il re al centro quindi dobbiamo sfruttare il fatto che lui abbia il re al centro alfiere D6 che mossa è? mi chiedo qui possiamo già guadagnare un pezzo credo possiamo già guadagnare un pezzo e giochiamo E5, lui cattura di cavallo io gioco torre 1 voglio provare a vincere tutte le partite in meno di 10 mosse questa è già vinta a mossa 6 ovviamente si fa per divertirsi mettiamo in pratica dei trucchetti che possono essere divertenti e carini insomma se vi piace questo video mettete mi piace iscrivetevi al canale ovviamente grazie a tutti coloro che si stanno iscrivendo e vediamo un po' se volete altri video come questo dove provo a giocare dei trucchetti proviamo a raggiungere non lo so 600 mi piace se il video raggiungerà 600 mi piace proveremo a farne altri di questo tipo ok ora qui lui sta comunque cercando di sfruttare bene il centro con i suoi pedoni insomma ma ha un pezzo in meno ragazzi è anche abbastanza inutile giocare in questa posizione se avete pezzi in più potete cercare di cambiare tutti i pezzi vedete come sto facendo io posso cambiare tutti i pezzi qui semplifico la posizione poi alla fin fine il pezzo in più si farà valere l'avversario qui minaccia sia l'alfiere che il pedone chiaramente spostiamo l'alfiere difendendo il pedone in h2 lui gioca h6 mossa veramente strana ma tra l'altro cosa può fare? cioè non può fare assolutamente niente credo qui attacco a 7 eh vediamo un po' sarebbe da abbandono io direi questa è da abbandono qui catturiamo ok stiamo semplificando tutto catturo guadagno anche un po' di donne quindi questo non ne vuole sapere di abbandonare catturo lui gioca torre d8 torre d8 giochiamo re e 1 per difendere d1 e a questo punto vorrei tanto cercare di dargli scacco matto in qualche modo velocemente senza andare a perdere troppo tempo proviamo a dare scacco ok lui viene su allora gioco cavallo d4 minaccio torre c6 torre c6 è quasi scacco matto o sbaglio? ah ok non è scacco matto perchè può giocare re d5 si giustamente quindi catturo in h6 e comunque faccio piazza pulita di pedoni anzi qui ora glielo voglio dare lo scacco matto perchè si sta mettendo nei guai da solo il mio avversario giochiamo torre a5 ora come vedete questo re praticamente non ha più case gli do scacco in f5 qui catturo e poi gioco pedone f3 pedone f3 dovrebbe essere scacco matto e glielo daremo per forza perchè mi sa che non può fare nulla ed eccolo qui checkmate siamo a due partite vinte anche qui avete visto molto semplice è stato un gambetto ok terza partita ragazzi vediamo un po' cosa facciamo qui che trucchetto possiamo utilizzare ok qui me ne viene in mente uno bello contro la spagnola ovvero qui cavallo e7 sto lasciando in presa il pedone in e5 solo che lui non l'ha catturato ha giocato a3 una mossa strana io provo a lasciarlo ancora in presa ora attacco l'alfiere giustamente e qui gioco una mossa casuale come g6 perchè se gioco g6 ora molto probabilmente lui vorrà attaccare per attaccare f7 ma peccato che si becca il doppio c'è scacco e perde il cavallo e siamo a 8 mosse abbiamo già un pezzo in più e questa è da abbandono ora qui ci lascia anche la torre perfetto cioè partite veramente a senso unico fantastiche e micidiali quindi se volete divertirvi a questo punteggio giocatele appunto queste partite insomma ok qui è 4 e 5 di nuovo vediamo qui questa volta cosa possiamo inventarci di nuovo la spagnola io vado di nuovo per lo stesso trucco solo che lui qui ha catturato ok allora qui effettivamente dovrei difendere il pedone n5 però ora sto cercando un po' di strafare diciamo ma a questo punto credo di doverlo difendere quindi gioco donna e7 lui ha giocato h3 proviamo alfiere da qualche parte anche se lui può catturare il pedone vabbè non lo sta catturando io arrocco lungo lui gioca a pedone b3 allora qui proviamo la trappola della canna da pesca cioè con h5 cavallo g4 se lui cattura probabilmente si becca scacco matto a breve credo ma non lo so bene sto provando so che questa è una trappola è una delle più famose in assoluto e quindi la stiamo provando ora lui ha fatto cavallo a4 che sembra una mossa interessante attacca l'alfiere io gioco alfiere d4 l'idea è quella di far spostare il cavallo da f3 attacco anche la torre giustamente lui sposta la torre e noi qui cosa possiamo fare ok non mi sembra che ci sia nulla posizionalmente quindi attacco il cavallo il cavallo se ne dovrà andare in b2 credo si cavallo in b2 e a questo punto proviamo a giocare una mossa strana come re b7 una mossa diciamo piuttosto difensiva comunque di attesa per vedere cosa fa lui perché l'errore può arrivare da un momento all'altro lui gioca a4 allora gioco a6 per difendere ok qui un paio di cambi come vedete lui è molto veloce tra l'altro ha giocato cavallo d1 io salvo l'alfiere e vediamo ancora qui cosa può succedere cavallo h2 ma sai cosa ti dico non lo voglio il cavallo tra l'altro gli stavo regalando un pezzo da mezz'ora ora però si apre la colonna h secondo me sto meglio qui posizionalmente esatto ora gioco donna h7 se è possibile se me la fa giocare il pedone in f2 è inchiodato dall'alfiere quindi anche qui penso partita abbastanza a senso unico donna h7 minaccio scaccomato in h1 esatto l'unica è f3 però a questo punto giochiamo donna h4 donna g3 questa è la mia idea se lui gioca donna f2 si becca scaccomato in h1 come non detto come non detto ragazzi vinta 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 carine ste partite no vabbè mi diverto troppo effettivamente hanno un punteggio bassissimo però ecco se siete a questo punteggio volete provare a giocare in maniera tattica aggressiva potete provare queste cose ragazzi qui voglio provare una trappola famosissima che va molto di moda nell'england speriamo catturi mamma mia ha catturato il cavallo non ci posso credere qui diamo scacco e guadagniamo la donna pazzesco abbiamo vinto dopo 6 mosse praticamente ora sono sicuro che non abbandonerà perchè dopo che perdi la donna in questo modo è un po' difficile che abbandoni però mamma mia ragazzi stanno cadendo tutti nelle trappole oggi pazzesco incredibile non so quante vittorie abbiamo fatto forse questa è la quarta la quarta partita però comunque divertenti questi video fatevi sapere se piacciono anche a voi insomma e magari continuiamo a farli ogni tanto non sempre ogni tanto può arrivare un video del genere con i trucchetti ok qui lui sta provando comunque a giocare fa bene perchè io ero al centro ora devo recuperare il pedone nel set è abbastanza pericoloso però piano piano lo faremo gioco donna h5 intanto attacco il cavallo attacco l'alfiere in h4 esatto lui doveva fare alfiere g3 infatti ha giocato alfiere g3 ora catturo il pedone con il cavallo in e7 lui gioca torre b1 con l'idea di attaccare b6 ok qui ha fatto alfiere per c7 ha guadagnato un pedone giustamente però come materiale più 4 quindi sono in vantaggio sicuramente c'è da capire come cambiare i pezzi ora ma ora lo faremo spero di poterli cambiare lui fa alfiere f4 alfiere f4 qui giochiamo addirittura g5 è che le voglio chiudere velocemente più partite faccio meglio è non so se questa sarà l'ultima dipende da quanto dura ok qui attacco il cavallo lui gioca cavallo d6 mi da il doppio alle torri qui o cambio la torre oppure catturo catturiamo dai meglio semplificare la posizione diciamo lui fa alfiere per d6 allora qui donna g6 attacco l'alfiere attacco la torre lui si accorge praticamente di tutte le minacce ecco se non fosse cascato in questa trappola probabilmente avrebbe giocato anche bene per avere 1216 però come avete visto dopo 5-6 mosse ha perso la donna no? quindi qui catturiamo giochiamo donna f6 scacco ora sono pronto a cambiare un po' di pezzi finalmente catturiamo qui catturo in e3 poi dopo ok abbiamo ripreso anche un altro pedone dovrei avere due pedoni in più qui re h7 ovviamente attacco il cavallo ma più che altro ora vorrei cercare proprio di dargli scacco matto in qualche modo se possibile e purtroppo nell'immediato non c'è stavo vedendo la donna a1 però lui giocare f2 ha una posizione comunque disperata torre c2 per difendere ok io posso cercare di deviare l'alfiere giocando in qualche modo pedone h4 forse e sperando ovviamente che lui faccia alfiere f2 non è detto che lui lo faccia quindi h4 infatti non l'ha fatto se faceva alfiere f2 probabilmente c'era scacco matto forzato lui ha giocato alfiere b8 e qui giochiamo torre d3 sto minacciando semplicemente torre d1 per dare scacco matto vediamo se se ne accorge ha sempre meno tempo l'avversario quindi la vedo dura ok se ne ha accorto giochiamo torre d2 attacco il cavallo se sposta il cavallo arriva donna f2 poi scacco matto a proseguire ok ciao ciao checkmate bella 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 ragazzi cosa dire partite veramente semplici divertenti secondo me fatemi sapere voi la vostra grazie a tutti per la visione di questo video vi invito a mettere mi piace iscrivetevi al canale e noi ci vediamo per un prossimo video ciao a tutti ciao a tutti